Minore in stato di abbandono materiale o morale, un triste fenomeno sempre più diffuso nelle pieghe di una società che fatica a dare risposte adeguate intanto a un grande bisogno di amore. Sulla base della legge 184 del 1983, l'Istituto dell'Affido Familiare va a costituire un punto di riferimento importantissimo per far fronte a questa vera e propria emergenza. Ma a minare questo sistema virtuoso, una scarsa conoscenza dell'Istituto stesso ed anche purtroppo un ricorso eccessivo dei servizi sociali e strutture residenziali spesso inadeguate. L'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza abruzzo, coordinata dall'Avvocato Maria Concetta Falivene, avvia così una capillare campagna di promozione in accordo anche con le tante associazioni presenti sul territorio per sensibilizzare le famiglie all'accoglienza temporanea di minori che si trovino in stato di abbandono. Noi crediamo molto nell'affido familiare e nell'attuazione del disposto legislativo sull'affido familiare che bisogna innanzitutto avere un conforto alla famiglia in difficoltà e poi in caso di affido perché c'è una fragilità vi è l'affido intrafamiliare e poi familiare e quindi quello che noi stiamo professando è la cultura dell'affido familiare. E altro aspetto è che purtroppo le famiglie che in Abruzzo sono circa 7.300 con figli diversamente abili, ecco non hanno un supporto reale e concreto pertanto vogliamo convertire e far sì che tutti gli operatori del sociale, gli educatori, diano conforto a tali famiglie con l'affido part-time. Affido ma anche formazione ed è questo uno degli aspetti rivoluzionari di questo progetto che ambisce diventare un progetto pilota da presentare al Ministero del Lavoro grazie al quale i giovani avranno oltre al sostegno familiare anche l'opportunità di imparare un mestiere e inserirsi nel mondo del lavoro grazie alla collaborazione con Confimi Industria Abruzzo. Proviamo sicuramente a risolvere un problema che è quello di formare questi ragazzi e dargli la possibilità di poter iniziare un percorso lavorativo all'interno delle nostre aziende che si sono messe a completa disposizione e poterli provare a dare la speranza di ambire ad un futuro migliore. Oltre che alla presenza in 10 piazze abruzzesi domenica prossima la promozione viaggerà anche su tutte le strade abruzzesi grazie alla partnership con Notua. Lo faremo attraverso lo sviluppo di una campagna divulgativa di questo progetto con mezzo di banner che viaggeranno su tutti i mezzi urbani ed extraurbani e che diffonderanno e promuoveranno il progetto dell'affido familiare.